Ciao ragazzi, ben ritrovati all'interno di questo nuovo video, io sono Vapor e oggi benvenuti in questo video reaction all'hacker di StumbleGuys Sì, sembra molto strana detta così come cosa, ma purtroppo siamo di fronte ad un episodio di questo genere, o meglio, capite bene guardando tutto il video Voi mi raccomando però, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciando like qua sul canale come vostro solito Noi ci vediamo tutti i giorni alle 14 qua sul canale, attivate la campanella, condividete questo video con i vostri amici E piccolo supporto extra, c'è la possibilità di andarmi a seguire su Instagram e TikTok come, basta andare qua sotto in descrizione Vi ho messo i link insieme a quello per abbonarvi, quindi se qualcuno si vuole abbonare a qualche soldino o robe Può anche donare eventualmente con i super grazie, insomma valutate voi cosa fare però ragazzi, il supporto sempre prima di tutto Eccoci qua all'interno del canale in questione, si parla di Maluco, probabilmente uno dei player più forti al mondo Già presente all'interno di molti miei video che trovate qua nelle schede cliccabili Ma il contenuto di oggi stratta principalmente di alcune sue giocate che lo fanno assomigliare di gran lunga ad un hacker Ma prima di andare nel dettaglio di questa cosa che vi ho appena detto, vi faccio vedere subito questo primo video qua ragazzi Questo video qua è un video all'interno della mappa dello spazio dove veniamo un maluco ragazzi on fire Dei livelli che neanche voi avete l'idea Già qua inizia a fare i suoi primi trick, inizia a fare i suoi piccoli giochettini Riesce sempre a tenere quel piccolo frammento che gli danno delle botte extra, tocca ai pianeti E devo dire che in generale comunque i suoi compagni che erano comunque molto molto forti hanno fatto il loro Vedete qua tocca ai pianeti, riesce ad avere quello slancio extra Qua è proprio una sfida a chi è più veloce a fare questi piccoli trickettini E vediamo comunque come Maluco qua avendo visto che appunto era verso, non avendo visto dov'era si butta in centro Ed effettivamente poi era in centro E qua per superare la concorrenza riesce subito in questa maniera qua ad avere la meglio Comunque avete visto come è veramente veramente forte All'interno di questo video però ci sono poi anche dei tornei che fa lui uno contro uno In questo caso abbiamo un maluco, due maluco abbiamo contro e vediamo quale vince Cioè ragazzi fanno delle giocate che voi neanche avete l'idea Io ve lo dico per il vostro bene, se avete bisogno di seri trucchi o di metodologie di gioco per StumbleGuys Se non guardate Maluco è un po' male come situazione Vedete come gestisce sempre egregiamente qualsiasi sua situazione Utilizza gli spuntoni in una maniera eccellente E in generale comunque mantiene sempre quella distanza corretta dai blocchi o dagli spuntoni Che lo può far ragionare in modo più intelligente In questa parte finale dopo un taglio enorme La giocata che fa Maluco è allucinante Cioè questa giocata qua penso che sia veramente da rivedere Perché lui cosa fa? Aspetta l'ultimo secondo in modo tale che l'altro Maluco non capiva cosa doveva fare Si butta contro lo spuntone calcolando perfettamente la traiettoria della caduta E riesce a riatterrare addirittura utilizzando anche il calcio E una cosa che ne ha anche da dire All'interno di LavaLand ragazzi troviamo comunque delle certe qualità da parte di Maluco Questa è la nuova mappa che vi ho portato in un video Insomma sono andato a provarla E qua vediamo un Maluco ragazzi che dà il meglio di serie Riece comunque a gestire la situazione anche già avendo delle nuove meccaniche da dover utilizzare La riesce perfettamente ad utilizzare Vedete come lui aspetta sempre la fine Per vedere dei nuovi blocchi che possano essere un po' magari più alti E riesca a gestirli meglio Qua sono in 3, sono rimasti in 3 La giocata secondo me qua sta nel fregare un po' i propri avversari attraverso delle giocate Oh mamma mia Qua ragazzi Maluco ha fatto la giocata della vita Non so minimamente come faccia ad essere ancora in vita Io ve lo dico Ho visto cosa che voi umani neanche potete capire E qua riesce a fare l'ultima giocata finale Che a mio parere conferma la sua bravura E soprattutto la sua forza all'interno di questo gioco C'è anche questo piccolo short All'interno di una mappa ormai classica di StumbleGuys Una delle mappe che maggiormente viene fatta vedere E qua fa uno shot ragazzi che neanche vi dico Riesce a fare una roba che non so minimamente neanche come sia possibile Ma a mio parere è uno shot È uno shot clamoroso Al posto di fare questo piccolo trucco che già vi ho fatto vedere da alcuni player Quello del rimbalzo sulla parte centrale di questi rimbalzini Lui fa un doppio salto indirizzandolo non perfettamente Quello che viene dopo Guardate qua Lui prende prima la parte sopra Ok E poi tocca con i piedi laterali e vola Vola in una maniera allucinante E a mio parere questa è una giocata di peso Cioè è una giocata veramente bella 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 E complimenti complimenti a Maluco Che questo vi fa vedere veramente quanto lui assomiglia ad un hacker effettivamente In tutte le salse è effettivamente una sorta di hacker tra virgolette Qua vediamo comunque come Maluco gestisce abbastanza egregiamente le situazioni Prova No vabbè ragazzi Cioè qua ha fatto una giocata Mostruosa Mostruosa a dir poco A dir poco Io ormai non so neanche più come descriverlo questo Questo player Andiamo a vedere ancora Meus Deus Perché sul laser game Qua mi sa che addirittura Maluco Si trova in mezzo a dei labirinti Che neanche ho l'idea Ma No vabbè ragazzi Cioè Incredibile Poi muore E poi muore malamente Anzi no in realtà mi sa che ha vinto Non l'ho capito Vedete qua Guardate qua Cioè qua proprio riesce a Lui cosa fa? Salta Tocca il pavimento Che gli da quel reset E risalta immediatamente C'è una cosa che neanche Io probabilmente neanche veramente allenandomi riuscirei Cioè lui Assurdo per quanto mi riguarda Un GG a Maluco Sotto tutti i punti di vista Perché un player del genere Raramente si trova in giro E soprattutto Delle giocate Importanti Anche qua ragazzi Salta Sul block dash Fa cose E qua Li tira una steccata Con un pugno In volo Che neanche commento Perché Non ho neanche Cioè Non ci sono proprio parole Ok Per commentare questa cosa Che Che io Ho appena visto Per quanto mi riguarda Solo un GG Solo un GG Per me si può dire Maluco e basta Cioè guarda qua Pam Steccata Col pugno E lo fa cadere sul recinto Incredibile signori Il video termina qua Come al solito ti ricordo Iscrizione Lascia la campanella Like Commento Condivisione Insomma L'importante è che Mi fate vedere Che questi video vi piacciono E vi sono soprattutto utili Come al solito vi ricordo Di seguirmi Su Instagram e TikTok Trovate i social qua sotto In descrizione Trovate la possibilità Di abbonarvi Importante Se non volete abbonarvi Perché non faccio live Cosa Potete anche donare Semplicemente Dei super grazie Che sono questa nuova funzionalità Che mi hanno attivato Che in teoria Dovrebbero permettere a voi Di sponsorizzare il mio canale In teoria Siamo anche nel direttore D'arrivo per i 16k Insomma ragazzi Un po' di sponsor Per il VAP Fa sempre bene Noi ci vediamo domani La 14 con un nuovo video Ciao belli miei Ciao belli miei Anche Non No